E oggi è la giornata nazionale per la donazione degli organi in Italia. L'86% dei giovani dice sì, ma sono ancora lunghe le liste d'attesa per i trapianti. Sentiamo il servizio di Olimpia Mignosi. Roma, centrale operativa trapianti, un ponte tra donatori e pazienti che aspettano. A chiamare sono i potenziali donatori. Qui si raccolgono informazioni e dati per vedere se quell'organo può essere donato per migliorare o salvare la vita di uno dei tanti pazienti che affollano le liste. Organi, tessuti, la donazione è una cultura che da noi sta crescendo. Anche grazie alla possibilità di mettere nero su bianco la propria scelta di donare. Si chiama dichiarazione di volontà. Si registra al momento del rilascio o del rinnovo della carta di identità elettronica. Ad oggi le dichiarazioni di volontà incluse nel sistema informativo trapianti superano i 5 milioni. Di quelle l'80% esprime un consenso e sono soprattutto giovani tra i 18 e i 29 anni. I trapianti sono oggi una terapia per pazienti che hanno malattie che non possono essere curate in altro modo. Perché si possano realizzare i trapianti però c'è bisogno delle donazioni. È un percorso in cui sono coinvolti e operano centinaia di persone. Non è il quadro e quello di un paese generoso ma dove è comunque cruciale informare e sensibilizzare verso quel gesto semplice e gratuito che può fare la differenza. Ci sono ancora più di 8 mila pazienti in lista d'attesa per cui bisogna ancora migliorare.